Marco Marcarino, Lega Salvini per Alba, presentato ufficialmente la vostra squadra in vista delle prossime amministrative, una squadra compatta per un centrodestra compatto a sostegno della candidatura di Carlo Bolle. Sensazioni, impressioni dopo questa giornata? Le sensazioni sono buone, pensi che io ho avuto il primo sondaggio, secondo me il migliore che ci possa essere, dal mio parrucchiere, mio barbiere. Lui mi ha detto state tranquilli perché quasi l'80% di quelli che vengono da me dicono che Carlo Bolle ce la farà e soprattutto la Lega avrà un grande risultato perché il risultato serve per il cambiamento di questa città. Questa città è stata per dieci anni una città che io chiamo dormiente, ma non la città, chi amministrava questa città? Perché la città è sempre stata molto vivace, molto attiva, grazie ai suoi concittadini e alla voglia di fare di questa città. Noi dobbiamo dare speranza di migliorare la vita a questa città. Io ho fatto prima l'esempio che Alba è paragonabile a una foriserie con tanti cavalli. Purtroppo in questi anni è mancato il pilota, è stato lasciato andare in folle, anzi, certe volte addirittura col freno a mano tirato. Noi abbiamo un buon pilota che è Carlo Bolle e assieme a Carlo Bolle ci sarà una grande squadra. Ingegneri, meccanici, elettricisti, tutto quello che serve per far funzionare e far vincere il campionato a questa macchina eccezionale. Io do anche la mia disponibilità per copilotare insieme a Carlo questa foriserie e quindi diventeremo grandi non solo nel territorio ma a livello mondiale. E ne siamo certi che non lasceremo più indietro i nostri concittadini. Prima vengono gli albeni, questo è il motto della Lega. Ecco, la giornata di oggi si è conclusa con il canto si può fare, potrebbe essere questo il motto di tutta la campagna elettorale che vi accompagnerà fino al 26 maggio. Si può fare, si può cambiare Alba. Anzi, si deve cambiare Alba. Noi abbiamo la fortuna di avere un grande condottiero che ha dimostrato a livello nazionale che non si ferma davanti a nessuno. Lui ha promesso di fare il cambiamento della nostra amata Italia e anche noi promettiamo di fare le stesse cose sulle orme del nostro capitano Salvini. Quindi Alba deve avere delle persone che siano concrete dalle parole ai fatti. Come ha fatto Salvini, anche noi ad Alba ci impegniamo a cambiare questa città in meglio. Questa città ha grandi potenzialità, questa città deve ritornare ad essere di nuovo un'isola felice, capitale della Langhe del Rorea. Tutti insieme, tutti insieme, tutti insieme, con Salvini si può fare. Noi abbiamo la stiamo pieno, l'unità non ha colore, l'unità non ha colore, l'unità non ha patrone, tutti insieme si può fare. Tutti insieme, tutti insieme, con Salvini si può fare. Tutti insieme, tutti insieme, con Salvini